eh ciao ragazzi bene dovremmo essere su Twitch dovrebbe andare la trasmissione è la prima volta aspettate che sono dall'altra parte adesso disattivo l'audio ecco dovremmo esserci ragazzi allora prima volta live eh sul canale sul canale ok ragazzi allora vediamo un po' eccoci qua eccoci qua ci siamo allora prima volta live intanto buonasera scusate per gli eventuali problemi tecnici perché non lo so usare stavo cercando di eh capire questa cosa eh come si potesse utilizzare e poi era da un po' di tempo che volevo provarlo per tanti motivi ci sono tante cose che si possono fare su Twitch ma poi mi ha convinto il grande e carissimo eh Marco Montemagno eh quando ha postato nella scorsa ehm eh settimana quello che è stato che gli è successo con un canale YouTube eh gli hanno chiuso il canale su web tre mh non so per quali motivi non so poi se l'ha ristabilito vi dico francamente però un po' ehm siamo mi è venuto in mente ecco questo pensiero già eh magari volevo farlo già da un po' su su Twitch ragazzi però ehm mi è venuto questo pensiero siamo nel mondo decentralizzato o parliamo tanto di decentralizzazione poi siamo sempre presenti invece su un'unica piattaforma che controlla praticamente tutto adoro YouTube contenerò a utilizzare ovviamente YouTube mille 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 volte eh però eh quello che ehm eh volevo dirvi insomma oggi ragazzi è che magari qualche live un po' iniziamo a ingrandire anche un'altra piattaforma proprio per eh bilanciare un po' questa cosa quindi dopo che ho visto che YouTube ha chiuso il eh il canale a Marco Montemagno ho detto vabbè mi sa che è ora di spostarci anche noi su un'altra piattaforma per fare dei test provare tutto il resto eh almeno sappiamo dove trovarci dovesse succedere qualcosa di strano va bene e quindi eh siamo arrivati qui ragazzi non la so usare non so come funziona pian piano eh andrò a sistemarla ovviamente eh ho una un canale con in questo momento centoquaranta iscritti visto che l'ho eh ho fatto i più di test proprio oggi fantastico iniziamo anche qui e ovviamente le live di Twitch poi le carico in ogni caso come video su YouTube quindi le troverete in ogni caso lì però magari a volte per parlarci live per scambiare dei commenti forse Twitch è anche un po' più indicato da alcuni punti di vista ehm e e e ci siamo ragazzi allora eh sembro praticamente intanto ciao Cobus come stai sembro un teenager perché ho la felpa eh va bene felpe mi piacciono ragazzi a dire la verità con il passare degli anni mi sono un po' spostato e sono diventato più sportivo rispetto a primo quando ero più giovane era un po' più elegantuccio eh ha gritto su cento quarantuno vai cento quarantuno follower in mezz'ora va benissimo così ragazzi fantastico eh va bene allora intanto ciao a tutti benvenuti gli affascionados quelli che ovviamente siete qui ehm e Twitch ringiovanisce sì hai ragione oltre la felpa però è che insomma eh e e ci può stare insomma va bene allora vediamo la scomodità di Twitch che se sei in ritardo non puoi andare all'inizio e guardarti dal doppio della velocità ah non lo sapevo questo ragazzi va bene così allora dovete essere puntuali e andare e stare in live beh io ogni tanto non sono puntuali allora intanto un paio di cosette ehm primo eh Crypto Trading Day a Bologna e Crypto Conference a Bologna eh abbiamo fatto il botto ragazzi allora intanto qui magari siamo un po' di meno poi tanto questo video finisce su YouTube volevo ringraziare tutti quanti voi perché ogni volta che facciamo queste ehm e questi incontri dal vivo un calore incredibile eh faccio un metro eh e parlo con decine di persone non riesco a eh neanche muovermi però la cosa è stancante ve lo dico in maniera proprio chiara è stancante però eh in compagnia anche eh la la scorsa weekend venerdì giovedì e venerdì però la notte di giovedì da tanto lo stress perché la notte di giovedì abbiamo fatto il mio eh evento insieme a Luca Boiardi e ehm Afterside eh e Mind Chart che ci hanno accompagnato c'erano anche gli altri ospiti eh Giorgio D'Amico per la parte fiscale eccetera abbiamo fatto il Crypto Trading Day allora io avevo un po' d'ansia e la notte non ho chiuso occhio ragazzi perché ero così eh stressato che pare di detto urlavo nella notte giusto per farvi capire come questi eventi poi eh sono veramente pesanti per noi perché parlare con centinaia di persone tutti insieme tutti in una volta eh però io lo faccio veramente di gran cuore intanto mi fa piacere io lo 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 faccio con grande piacere ragazzi poi magari dieci anni così non lo so se dirego però in questo momento per me è una cosa eh bellissima poter dare il mio contributo più aiutare il più possibile parlo con tanti di voi eh ho ho passato tutta la giornata a dire segui il trend segui il trend trend is your friend trend is your friend quando parlo di mh qualcosa sul canale mi la la giornalista della Rai La Caffagna durante il ehm il nostro panel con eh Pietro Michelangeli sempre Luca Bogliardi Tiziano Tridico eh mi ha chiesto come faccio a gestire il mio rapporto con eh visto l'importanza insomma di parlarvi io eh gli spiegavo come era difficile per me ehm censurarvi alcune criptovalute alcuni investimenti alcune cose eh proprio perché ritenevo estremamente rischiose abbiamo visto spesso e volentieri come capita questa cosa e anche come poi vanno in down magari cripto come luna anche troppo eh a dire la verità ci arrivano negli ultimi periodi eh Wonderland quando è fallita e gli spiegavo anche che questa mia scelta di tagliare fuori dal canale tante cose un po' magari trancia anche quando ci sono le burran tutte le opportunità quindi bisogna sempre mediare proteggere gli utenti o no eh ragazzi non c'è una soluzione eh giusta eh da questo punto di vista c'è solo una scelta quindi ogni tanto ehm magari la 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 cripto di turno io non ve la scillo come si suol dire perché eh spesso ho ehm un po' ehm attendo attendo un po' come fa Apple o no ragazzi attendo sempre l'innovazione attendo che venga messa in atto prima di eh liberare eh alcune cose perché perché è complicato insomma eccetera ora luna non è eh ovviamente un'innovazione è semplicemente una situazione da gestire ve l'ho detto ieri nel nel video eh importantissimo adesso la vediamo chiaramente perché andremo a vedere ha fatto un crash spaventoso ragazzi ok però qualcuno di voi proprio nel crypto trading day che era lì presente nel mio intervento si ricorda lo spread trading questa strategia che ho presentato al crypto trading day di Bologna eh e ehm ho anche presentato il giorno prima eh qualche giorno prima ai nuovi iscritti del percorso trading on che eh la la promo è scaduta ieri ragazzi e e con un modulo dedicato ci sarà proprio un modulo che spiega questa strategia quel giorno lì io avevo presentato uno spread luna short solana long ragazzi lo rivediamo oggi eh mi hanno chiesto come dove perché ho spiegato che luna aveva meno forza relativa di solana ed era su un livello e mh è sicuramente vero che tante cose dipendono da news manipolazione e quant'altro ragazzi però è anche vero che nei prezzi poi si vedono queste cose infatti eh la mia scelta di uno short su luna eh qualche giorno fa è un long su solana a compensare con questa strategia non era casuale era fatta sui grafici l'ho spiegato alla a bologna dal vivo ragazzi ho mostrato lo spread dal vivo spread che ancora è operativo sto guadagnando in pratica una cifra spropositata sull'una proprio su quello short ovviamente è compensato dal long di solana che è anche in perdita però non come luna insomma che è andato down insomma ragazzi questo per dirvi che durante queste situazioni durante questi interventi si imparano tante cose quindi chi era lì quel giorno magari ha imparato questa tecnica magari ha iniziato a riflettere magari ha fatto le domande mi ha chiesto perché per come per quando e poi il mercato ricompensa sempre queste cose quindi ehm eh partecipate agli eventi ne avremo un altro 27 28 alla blockchain week è già in pratica sold out da quanto ho capito però ragazzi è stato un evento bellissimo quindi io volevo ringraziare tutti quanti quelli che avete partecipato al crypto trading day faremo sicuramente una eh nuova edizione il prossimo anno e sarà un'edizione molto più grande perché abbiamo intenzione di farla sola e unica non appoggiandoci eh ad altre conferenze e Cristo trading day è un evento che parte dal basso ragazzi eh è un evento gratuito noi non abbiamo preso nulla da quell'evento lì non è un evento per creare business ma per dare formazione a tutti quanti eh coinferenza ci ha ospitato e quindi grazie di cuore ma anche a tutta l'organizzazione perché i ragazzi sono sempre vicini e ci hanno ospitato e l'unione fa la forza io lo dico così ovviamente una super grazie invece va a tutti gli influencer che eh ci hanno accompagnato mi hanno accompagnato anche lì eh dandomi la loro disponibilità in primis Luca Boiardi ovviamente ma in the chat quindi Marco ed Emiliano di Afterside che sono venuti ma c'erano anche gli Hard Rock Crypto ovviamente che tutto il tempo della conferenza hanno fatto live e vi hanno reso partecipi perché ognuno ha un suo ruolo ognuno ha anche una sua ehm importanza all'interno eh di questa grande community italiana eh quindi grazie veramente a tutti quanti grazie eh a ehm anche a tutti quanti voi per essere stati lì allora andiamo a capirci un po' che cosa sta succedendo luna e ehm e bitcoin crash fresh crash perché ragazzi allora fresh crash di bitcoin perché ha perso un supporto Nasdaq troppo forte spinge spinge a un certo punto il supporto si brecca ce n'è un altro un altro supporto che può essere stra pericoloso non pericoloso stra pericoloso se breccato quel supporto lì ragazzi si salvi chi può perché è un problema che non c'entra nulla con la questione dell'analisi fondamentale eh io mi dibatto sul questione analisi fondamentale del le cripto sono al top della forma da un punto di segnalisi fondamentale eppure abbiamo visto sprofondare e ancora non è detta l'ultima parola ragazzi dobbiamo andare a vedere cosa succede eh abbiamo visto sprofondare queste cose e eh molto in maniera molto pronunciata allora chiediamoci cosa conta di più allora ieri nel mio canale telegram ho pubblicato una eh email era un'email che avevo fatto per il lancio dei corsi ma era anche una mail molto riflessiva ragazzi andatevela a leggere l'opinna da su perché riflessiva e vi spiega un concetto che è il vero concetto del lungo periodo e di come questo lungo periodo eh va a considerato ragazzi allora quando ci approcciamo ai mercati quello che conta è il lungo periodo ma il lungo periodo io lo spiego in quella mail ragazzi l'ho scritta in un momento anche un po' l'ho scritta anche molto bene molto un po' romanzata ehm il lungo periodo ragazzi è un arrivo non è non è un eh un scusate è un viaggio non è un arrivo va bene quello dico in quella mail lì eh perché ragazzi perché ognuno pensa che il lungo periodo poi aggiusta le cose ma il lungo periodo è oggi perché il lungo periodo è oggi era il lungo periodo di quattro anni fa ragazzi va bene quindi non esiste questo lungo periodo è un orizzonte questo non significa che non dovete pensare al futuro dovete sempre pensare all'ottica di lungo periodo ma ricordatevi che è oggi che state facendo le azioni per quel lungo periodo lì quindi se vi comprate delle cripto degli asset finanziari contro trend in maniera pesante dovete sapere quello che state facendo magari qualcuno di voi dirà ah ma domani risale tutto ma assolutamente io sono d'accordo ho ancora il 50 per cento delle mie posizioni in bitcoin va bene ragazzi ci può stare questa cosa è una convinzione ma lo so quello che sto facendo ragazzi cioè sto facendo delle operazioni contro trend e contro trend vi prendete le bocciate in testa come avete visto nella giornata di ieri e non è successo niente perché se le cose peggiorano in maniera radicale altro che quello che avete visto ieri succede anche molto peggio quindi il concetto è vabbè poi io aspetto nel lungo periodo ma quanti anni questo è il discorso non è vera questa cosa non dovete ragionare così dovete imparare a comprendere che il lungo periodo è una strada è una via che dovete seguire ragazzi si fa così si fa così si segue la via però la le azioni le dovete fare oggi va bene e oggi dovete è già stato oggi già oggi è il lungo periodo di qualche anno fa ragazzi ricordatevelo quindi se avete fatto bene i compiti già oggi avete i risultati e se non li avete c'è qualcosa che non va se avete comprato le cose che crollano costantemente c'è qualcosa che non va quindi ricordatevi il concetto trend is your friend serve a proteggersi non a fare il colpo grosso non serve a guadagnare milioni di dollari serve a gestire il portafoglio perché io lo so come fare se entro lungo in questo momento sull'una ragazzi la so gestire è una posizione perché ho vent'anni di esperienza ma voi chi siete dietro riuscite a farlo quindi se io adesso vi dico che entro lungo sull'una il problema qual è che io magari la so gestire però qualcuno lì dietro di voi non riesce a farlo e arrivano i danni ecco perché non vi sentite mai fare queste operazioni un po folli in academy le faccio ovviamente le ragazze ce l'hanno le faccio non sull'una non sono andato a nessuna parte in questo momento e però ovviamente li siamo trader formati quindi ricordatevi lungo periodo è un orizzonte è un viaggio è quello che ci spinge ragazzi ma non arriva mai il lungo periodo perché quando sarete lì ci sarà un nuovo lungo periodo da raggiungere quindi è oggi che voi fate il vostro lungo periodo e dovete seguire i trend ragazzi imparare quattro regole vi abbiamo fatto settantacinque mila video gratuiti su youtube quattro regole per imparare a seguire il trend quanto meno quello macro poi ognuno con le proprie convinzioni si tiene giustamente le cripto si tiene quelle che ritiene e dice ok io non voglio più toccarle queste perché tengo all'ideologia cripto questa è un'altra cosa non c'entra con l'investimento quindi dividete le due cose fate entrambe io faccio anche così infatti non sciolto mai bitcoin va bene allora detto questo allora nicola sì sì la metto la replica su youtube metto questa proprio su youtube detto questo era il grandissimo la grandissima riflessione che volevo fare ma se volete rileggere la parola che secondo me sono uscite anche molto bene sul canale telegram trovate pinnata questa paragrafetto che ho scritto io la vedo in quel modo ragazzi è proprio il mio modo di vivere il mio modo di gestire rilasciaci il modulo premium sull'agisse ciao allora ti giuro oggi volevo registrare gli ultimi tre video mi sono rimasti del basic 2.0 e poi iniziano i moduli il primo modulo però sarà il cripto spread trading quindi finisco prima quello poi c'è quello del portafoglio che già qualche lezione ce l'ha e poi faremo il mindset mindset alla fine quando diciamo devo essere in un periodo molto alcolico per fare il mindset ragazzi se no non mi viene ok allora questo delta exchange certo che te le do due parole non solo te le do ti faccio anche vedere mannaggia loro che è successo è successo una cosa che succede spesso gli exchange giovani non mi ha meravigliato mi piaceva e mi interessava comprendere che cosa avrebbero fatto ripristinando la questione l'ho già vista questa cosa l'hanno fatta anche exchange come binance tanti anni fa ha fatto bitfinex e l'ho vista un sacco di volte ragazzi non è una novità durante il crash delta exchange ha sbarellato con i prezzi cioè ha fatto eseguire per un errore alla piattaforma probabilmente degli eseguiti impossibili cioè bitcoin comprato 10 dollari affermo restando che cosa hanno dovuto fare hanno dovuto bloccare tutte le transazioni perché se no gli saltava il banco chiaramente e ripristinare gli ordini al prima dell'errore che loro avevano avuto questi problemi avvengono nei flash crash perché le macchinette e loro hanno un sacco di botte attaccati perché sono un exchange di opzioni il secondo exchange di opzioni più grande che esiste ragazzi allora cosa è successo praticamente che a questo punto loro hanno dovuto bloccare resettare tutti gli ordini sbagliati e riaprire l'exchange a somma zero hanno tagliato fuori tutti bloccati bla 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 solito discorso giusto non giusto exchange giovane tecnologia da sviluppare però io ho visto sistemi vi assicuro che in flash crash come quello tipo anche deribit nel marzo 2020 sbarellavano ma totalmente hanno bloccato totalmente le operazioni hanno chiuso per giorni un disastro allora delta exchange è riuscita a rimetter su la cosa e e e poi allora c'è questo che poi lo leggo ragazzi questa cosa qui ma poi non so come si fermano questi commenti ragazzi non mi scrivete i commenti perché poi non so come andare a a bloccarli e quindi comunque ora rispondiamo va bene e allora delta in pratica ragazzi poi ha ripristinato tutto oggi funziona tutto regolarmente però 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 quanta quanta ehm e diciamo tensione no perché alcuni pensavano di essere ritornati alla vecchia no delta perché ve lo ve ne ho parlato perché è il mio exchange che sto usando insieme a ftx per la questione dei spread allora vi faccio vedere lo spread in questione allora qui trovate l'operazione su luna che è quella che ho presentato eh esattamente proprio la giornata anzi ve la faccio vedere così eh elimino la mia persona che ho quella che era la eh la mia eh che l'ho presentato durante la eh la cripto come inferenza alla cripto trading day eccolo qui questa è un'operazione unica ragazzi non è un long su solana e uno short su luna sono entrambe insieme come vedete in gain di duemila dollari su cinquemila di dollari di capitale cinquanta per cento di gain ragazzi creato proprio con uno spread lo spread è un'operazione estremamente prudenziale e molto 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 sicura perché eh rende la gestione adirezionale in base al mercato quindi dovete sapere quello che fate quindi riduco la volatilità e soprattutto gioco una ehm strategia molto particolare è molto bella mi piace tanto funziona alla grande per il down proprio per questo ho fatto un modulo premium del nuovo percorso formativo lo sto lo devo ancora registrare però ho già scritto l'indice tutte le ehm la struttura eh dove spiego proprio questa strategia ragazzi poi comunque il modulo sarà disponibile per tutti quindi non è eh solo per eh anche per chi il corso non ce l'ha insomma eh allora qui e poi abbiamo la realized profit tremila cento novantasette duemila dollari tremila e duecento dollari eh di gain su cinquemila eh più cinquemila diecimila di capitale quindi il trenta due per cento di gain sta facendo questo spread che è operativo da circa ehm due mesi e mezzo eravamo a Miami quando ho fatto il primo spread near Ada il secondo l'ho aggiunto quando sono tornato qui quindi un mesetto fa circa eh questo è quello che sta succedendo mercato l'avete visto questo spread è aperto da allora eh trentadue per cento di profitto eh bilanciato attenzione che non è uno short ragazzi è uno spread questo significa che può continuare a guadagnare anche se il mercato torna a salire questa è sono strategie estremamente importanti non a caso avevo fatto questo short luna eh e long solana proprio perché esiste ehm diciamo eh e c'era da guardare anzi ve lo faccio vedere direttamente perché l'avevo già emesso nella mia cartellina spread eccola qua luna usdt e solana usdt era questo lo spread ragazzi era questo il grafico che stavo tradando e il motivo per il quale avevo tirato giù eh questo spread era questo livello l'ho anche spiegato poi eh nella a Bologna no perché era dal vivo poco tempo l'ho spiegato nel nel webinar quello che avevo fatto per i corsisti eh questa era una classica inversione di tendenza questo è lo spread di solana luna con solana molto più forte però a un certo punto guardate qui aveva fatto il classico eh abc quindi una down la B e ho detto se questo ehm sfonda il livello giù va a picco perché eh insomma sonana era già in bilico il trend era estremamente eh scusate luna era già in dirico il trend era estremamente ehm sfavorevole per bitcoin luna doveva andare in close ciclica ecco il trader che si mette in atto e questo è il risultato quindi poi da qui addirittura sono andato anche il loss leggero loss ragazzi infatti quando ero a Bologna io l'avevo presentato eh facendo gli vedere che c'era anche possibilità di perdere con uno spread era pochissimo lo spread ma ovviamente non l'ho chiuso l'ho mantenuto perché non era successo niente di che in questo grafico quindi questo è il discorso di quelle operazioni per chi era lì con me ragazzi e ha visto quelle operazioni allora andiamo a parlare adesso invece di eh proprio luna in questo momento e andiamo a vedere che cosa ehm è successo eh la questione luna ragazzi è molto rilevante perché da un certo punto di vista luna è una cripto eh pericolosissima in quanto potrebbe mettere in gioco l'intero ecosistema cripto ma è anche eh l'unica cripto che in questo momento può eh in maniera corretta ehm farci vedere se questo tipo di ragionamenti questi tipi di progetti possono avere un futuro quindi da un certo punto di vista deve reggere ragazzi questo è il concetto se regge allora mh dimostra che queste cose sono possibili e dà una via se non regge non regge perché alla fine una stable coin come UST ragazzi è un esperimento non è eh Teter che è basata su tecnicamente dei dollari non è peggata a a a dollaro è una stable coin algoritmica dentro ci sono castelli su castelli che fanno in modo che quel valore venga tenuto l'hanno protetta in mille modi ma la stable coin algoritmica è un esperimento della DeFi 2.0 e non sappiamo quali di queste reggono ne abbiamo visto tante più o meno stanno andando bene non è andata male però ragazzi non si può innovare in due mesi non si può pensare di innovare e anche se c'è Duon dietro con tutta la sua mente e e e riuscire nell'intento al cento per cento subito quindi dovete capire quando avete investito o se avete investito io non ho solo fatto trading su Luna non ho mai preso VST dovete capire quello che state facendo nessuno regala niente non ci sono pasti gratis e questo fantomatico venti per cento di ancora ragazzi che poi è durato pochi mesi e basta lo stanno già togliendo comunque a prescindere non ci sono pasti gratis nel trading non ve li danno questi pasti gratis e marketing vabbè poi il progetto dietro è il più interessante da stable coin algoritmica e il più interessante è proprio l'una perché lui ha creato un super ecosistema su una stable coin algoritmica le altre non ci sono riuscite ce ne sono tantissime non ci sono riuscite quindi bisogna capire quello che fate non andate a prendere roba del genere se non sapete l'abc degli investimenti e del trading perché è sbagliato ragazzi è sbagliato perché è estremamente rischioso oppure caloppate il trend quando vedete che le cose si mettono male con una media mobile scappate come se non ci fosse un domani perché a livello cripto questi sono esperimenti non è un asset normale non è picco non è che state prendendo bitcoin o ethereum ragazzi hanno storico dietro state facendo un prestito un protocollo che dietro ha creato un super castello che forse regge e se ce la fa indicano la strada tanti altri protocolli su cosa fare come seguire dov'è il vero valore sono i primi i pionieri va bene ragazzi i pionieri che stanno arrivando lì perché sono decine di sistemi così il problema che loro sono stati quelli più grandi quelli che sono riusciti a creare qualcosa di valore e allora a quel punto bisogna dargli il tempo di vedere se funziona però se voi avete prestato a un protocollo del genere il vostro money vostro cripto l'avete prestato a chi sta facendo sperimenti ragazzi quindi non è che vi arrivavano questi pump improvvisi a caso cioè delle cose che comunque avevano dietro delle logiche che sono giuste perché si innova così e quando si prendono le batoste ragazzi è così che si cambia perché se l'una ce la fa diventa antifragile e riesce a recuperare questa roba interverrà binance alcuni dicono interverrà quello interverranno gli altri e tutti quelli che più ne ha più ne metta va bene però è il modo in cui si dimostra di essere antifragile resiste ce la fa e deve fare i suoi compiti poi da qui interviene con un altro concetto la questione legata alla all'attacco manipolatorio a un attacco di manipolazione nei confronti di luna e gli st sotto attacco poi luna vengono venduti per riportarli lì e quindi crasha luna è ovviamente un meccanismo che si auto a niente in una spirale incredibile ragazzi il problema dov'è è che gli attacchi è normale che ci siano che non è che le persone cattive attaccano il protocollo luna ma cioè scusate davvero scherziamo una cosa del genere è una follia a bitcoin non hanno attaccato un milione di volte cioè non ricordo neanche io quanto c'erano attacchi di continuo qualche anno fa la cina cercava in tutti i modi di bloccare bitcoin quelli che vendevano le balene che vendevano senza fermarsi bitcoin ha retto e così reggono i protocolli e le imprese reggono agli attacchi per diventare antifragili quindi non è che c'è gente cattiva che attacca il protocollo di luna e che luna è attaccabile e questo è il discorso e allora bisogna renderla non attaccabile questo aspetta al loro team agli sviluppatori a fare i giochi a casa devono farlo loro perché sono loro che sono dietro queste cose quindi io ancora una volta come ho detto per la questione wonderland wonderland poi sembra non riprendersi più luna ovviamente non è wonderland in questo momento non c'è tra niente però come dissi per la questione quando lo ripeto ancora qui queste cose aiutano il mercato a diventare migliore e ovviamente il problema è non starci sopra quando accadono questo per farlo dovete essere trader o investitori con formazione altrimenti le beccate ragazzi prima o poi le becchiamo tutti ovviamente però una volta se sapete gestire il portafoglio vi funziona molto molto meno non era a caso che io sono mesi che dico luna no basta abbiamo allora vi ho detto quando fare l'ultima operazione sulluna e abbiamo fatto questo break qui ve la rifaccio vedere e l'abbiamo tradata insieme sul canale youtube proprio questa fase qui abbiamo abbiamo tradato questo che era il break di luna siamo usciti in questa zona va bene poi ha fatto un massimo storico vi ho detto siamo sul massimo storico di un ciclo che probabilmente deve andare in chiusura dell'annuale ovviamente non è che mi aspettavo un crash del genere ma non è che qui abbiamo la palla di vetro ragazzi va bene però siamo nella fase negativa ve l'ho detto anche nel video lunedì vi ho detto luna è fase negativa e che fate i contro trend che vi comprate luna e poi puntualmente arriva quello a compro luce allora se voi volete fare il contro trend allora poi non vi la mettate però che le cose vi vanno a cavolo poi aspettate sì aspettate va bene io aspetto di comprare a prezzo buono poi quando arriva magari me la prendo però magari compro un po più alto non fa niente però stanotte ho dormito ragazzi fermo le stando che avendo bitcoin ancora hai detto tranquillo tranquillo ho dormito va bitcoin è sempre bitcoin insomma non scherziamo però allora qui dal punto di vista di analisi ciclica c'è la chiusura del ciclo annuale in corso la stessa cosa io vi ho detto un po' un'altra cosetta qualcuno di voi mi ha scritto nei commenti vi ho detto luna anticipa lo dico da tre mesi anticipa perché ha chiuso il ciclo annuale prima delle altre coin quindi luna la possiamo vedere un po' come una bussola anticipatoria di quello che può succedere a bitcoin questa cosa può succedere a bitcoin ragazzi può succedere ed è quello che mi ha spaventato di più proprio ieri perché non siamo andati dove dovevamo andare ora c'è questo ciclo trimestrale da iniziare lo vediamo oggi però se perdiamo il supporto di bitcoin che adesso vi faccio vedere questa cosa può tranquillamente succedere magari non facciamo meno 45 in un giorno spero proprio di no però può succedere ragazzi perché siamo su un punto proprio limite ora nel caso di luna ci sta una cripto più più leggera più mobile pensate che sono intervenuti anche tantissimi balene in questo momento a salvare il salvabile qui altrimenti la vedevate a due dollari questa qui se non c'erano le balene che intervenivano ragazzi bene sono intervenute a salvare il progetto ci mancherebbe però quando arriva il panico avviene su criptovaluti piccole succede un disastro quando avviene su luna avete visto luna come ha subito ed era una cripto forte su bitcoin subiamo comunque inevitabile magari non così però questo è il discorso però una cosa del genere può venire a venire alla chiusura del ciclo annuale questo è il problema ora o abbiamo troncato un ciclo annuale anomalo ternario che magari ne parliamo nei prossimi delle prossime settimane quindi bitcoin sta facendo una chiusura che in questo momento non abbiamo visto bene cioè una cosa che non abbiamo previsto oppure ragazzi la teoria classica stiamo seguendo da gennaio per altri tre mesi qui si scende e il problema è che se si scende da qui dopo il rimbalzo magari arriviamo se ci va bene a 39 38 40 con bitcoin e se rimbalza lì è già qualcosa poi tiriamo le somme vediamo un poco però poi se da lì ritorna a scendere a chiusura dell'annuale da 40 scendiamo sotto i 28 al 100 per cento non va bene allora ecco perché vi dicevo raggiungere 52 54 perché ci serviva a stare sopra prima di una cosa complicata allora questo è la struttura di un ciclo annuale in fase di chiusura ovviamente in questo caso nel caso di luna è stato estremamente pronunciato cosa è successo qui alla criptovaluta di questo ecosistema è il successo che ha smollato questo livello di supporto questo livello di supporto che era 75 dollari era il minimo del nuovo ciclo probabilmente trimestrale di luna e da qui in poi smollando questo livello la cripto è andata in panico perché ha fatto vedete una candela rossa poi si è poggiata sull'altro livello di supporto un'altra candela rossa e dopodiché ha bucato bucando il primo livello di supporto panico questo livello non ha retto panico generale l'ultimo livello di supporto bucato questo flash crash questo è quello che succede ragazzi nel nei sistemi come questo come delle cripto quando non reggono i livelli di supporto perché vedete questo qui l'ultimo baluardo cioè questo era il trigger che ha innescato vedete la barra che si è persa quindi l'inversione di trend perché fino a qui eravamo ancora in trend long noi venivamo da questa zona quindi matematica statistica qui siamo in trend long quando molla qui il trend inverte inverte nel breve periodo ha invertito un trend ed è diventato short di breve periodo è entrato in panico il sistema perché avendo paura di quello che c'è dietro l'ecosistema luna tantissimi si sono andati a chiudere le loro posizioni perché hanno detto meglio andare via le balene l'hanno attaccata hanno trovato un punto debole e gli hanno dato il colpo di grazia questo è il problema gli hanno dato il colpo di grazia che è sfociato in questa roba qui perché tu gli fai perdere un supporto il secondo supporto mandi in panico totale tutti qui l'ultimo a 45 che doveva essere il punto teorico di arrivo barra conclusione di un ciclo annuale ha dato via al fresh crash ed siamo arrivati a target finale in pratica del ciclo che era l'ultimo supporto io questa linea non l'ho aggiunta ragazzi questa linea è la stessa che trovate nel grafico di ieri lunedì non le aggiungo quindi si è bloccato proprio sull'altro supporto l'ultimo dopo di che ragazzi che si fa allora dopo questa zona qui vi ho indicato un altro livello che è 18 poi ci sta dentro 11 8 ma qui assisteremo sicuramente a un qualcosa del genere perché se dovesse perdere ulteriormente questo tipo di supporti è una catastrofe in quanto probabilmente avviene un depeg costante continuo di ust e una cosa del genere è un attacco importante e al quale probabilmente il team non riesce più a mettere una pezza se non ci riescono finisce male io penso ci riescano ragazzi però non comprerò come vi ho detto lunedì non comprerò assolutamente questa cripto valuta fino a quando non inverte il trend non mi chiude il ciclo non mi interessa se sale del 187 per cento domani perché non ci faccio trading e quindi se voi fate un investimento su una cripto del genere per il medio lungo periodo non si compra in questo momento lo so che è il contrario di quello che si pensa però in realtà non è così perché io qui la potrei comprare come trader e dire ok rimbalza e sto a posto ma una cripto che crolla giù può avere tutti i fondamentali del mondo ragazzi però i fondamentali si reggono a due facce con una medaglia mi prendo il bitcoin da qui e da qui da qui e da qui va bene l'altro giorno due mesi fa i mercati old classici nasdaq apple google microsoft netflix erano ai massimi storici che è cambiato in due mesi alla guerra non è vero ragazzi ha cambiato niente tutti sapevano che i fondamentali erano sballati che era tutto compato lo sapevamo tutti che la federale riserva aveva premuto il bottoncino per far salire il videogioco non è che non lo sapevamo lo sapevamo eppure tutti lì sul carro allora cosa succede quando arrivano i flash crash tutti invece a no io non ci voglio stare scappano tutti quindi questi fondamentali poi perché sono un po' aleatori soprattutto sulle cripto ragazzi perché protocolli giovanissimi va bene sono molto belli ben fatti questo possiamo dire una cosa è dire un protocollo è molto bello ben fatto una cosa è andare a dire reggerà nel tempo va bene queste sono cose che sono scommesse molto forti quindi mi raccomando quando un trend crolla un motivo c'è se voi fate i trailer ovviamente ci mancherebbe andate a fare i trailer ma se mandate a comprare contro trend un protocollo non bitcoin un protocollo lo ripeto perché questo è un protocollo creato da qualcuno da un team non è bitcoin che è ormai pubblico diciamo di dominio pubblico non ha dietro qualcuno che lo deve sostenere o meno allora ragazzi un po' il rischio ve lo ve lo addossate di fare un contro trend è il famoso coltello che cade quindi questo è il problema ora che sia crashata che questi sono buoni prezzi buoni prezzi sulla base di cosa e anche questa è una domanda che tutto mindset qui ragazzi ma sulla base di cosa questi sono buoni prezzi ma chi ve l'ha detto ma dove stanno i dati quali sono questi dati quanti earnings fanno dove sono i dati va bene ragazzi allora ho fatto un concorso in analisi fondamentale crypto con i dati andatevi a vedere quelle puntate ancora siamo un po' troppo giovani per fare quelle cose nel settore crypto ci vuole un po' di tempo però il concetto è di natura emotiva voi dite che questi sono buoni prezzi sulla base del fatto che prima era 100 tutto qui ma buoni prezzi su una base di cosa va bene allora il concetto dell'opinione è un'opinione nei mercati quindi non fatevi prendere da queste cose e ragionate sempre su quello che state facendo comprare contro trend è sempre una cosa sbagliata anche se domani questa crypto sale del 100% avete comunque sbagliato perché non è quello il modo giusto volete fare un piano d'accumulo ma quello lo posso già accettare ragazzi perché volete dire ok questa crypto nei prossimi sette anni si riprende benissimo iniziato un piano d'accumulo da qui a dicembre di 50 dollari va bene mentre crasha ci può stare anche se va giù a picco comunque perdete pochissimo perché avete iniziato con dei pezzettini e non ha senso diciamo quindi non vi genera danni ma se io 100 mila li metto tutti qui non sto facendo un investimento di lungo periodo sto facendo il trader che è una cosa diversa lo posso fare però devo mettere stop loss trailing stop gestire la posizione guardare i grafici avere una formazione di anni alle spalle perché questo è scalping contro trend quindi vi fate malissimo se le cose vanno male ricordatevi queste cose perché vi salvano la vita nel 2018 non lo sapeva nessuno io sono stato uno dei primi a dire queste cose sui canali proprio perché ero piccolino e non mi calcolava nessuno quindi non c'era il problema di dover dire questa roba e quindi l'ho detto ragazzi come l'ho detto nel 2018 lo ridico nel 2022 trend is your friend poi chi mi ha ascoltato nel 2018 ha portato a casa la burrana del 2020 chi non mi ha ascoltato è uscito dal mercato questo è finito così poi ognuno ovviamente libero di fare le proprie le proprie scelte ok ricordatevi ragazzi queste sono cose importanti allora luna 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 che mi combini andiamo a vedere l'analisi ciclica la questione ciclica sulluna è un po complicata perché o la facciamo ricadere in una conclusione intorno a un mese da qui più o meno fra un mese e mezzo circa a 400 giorni di media più o meno i cicli annuali che fanno tutte le cripto standard almeno da un po di tempo oppure ragazzi luna fa dei cicli più brevi perché non lo sappiamo perché troppo poco tempo che abbiamo la struttura ciclica di questa criptovaluta quindi siccome è troppo poco tempo fare analisi ciclica su un grafico del genere anche fortemente manipolato da tutto l'ecosistema che c'è dietro lascia il tempo che trova quindi lasciatemelo dire io le uso queste cose però sempre con il beneficio del dubbio proprio perché so che hanno dietro dei dati che sono comunque da tenere a mente quindi questo è fondamentale ragazzi c'è dietro il team può essere manipolata in tutti i modi attaccata in tutti i modi ma quando si sviluppa un panic selling di questo tipo c'è sicuro un problema dietro insomma che va affrontato e va compreso teoricamente se gli facciamo ricadere l'annuale di luna si chiude in questa zona un mese e mezzo due questo è il discorso questo significa anche però che se l'annuale giusto così un mese e mezzo due che si fa allora ragazzi non c'è più soluzione a questo trend né di luna né di bitcoin se non chiudiamo un ciclo annuale ora il problema è questo ciclo annuale si chiude corto cortissimo rispetto al passato oppure va verso il suo target quest'estate come vi dico da gennaio perché se ci andiamo verso quel target abbiamo altri tre mesi da gestire così con alti e bassi con magari trading range ma è difficile che manterranno questi minimi probabilmente si scenderà ancora e allora a quel punto se bitcoin per dei 30k che succede è lì i giochi sono fatti ragazzi per questo da me se vi dico attenzione controllate sempre la volatilità questa è allora scusate ragazzi io intanto leggo il commento maurone si sale o si scende allora questa è la domanda che mi fate in tanti perché anche l'altro giorno nei commenti di mi hanno scritto mauro insomma alla fine o si sale o si scende io scherzosamente ho messo no c'è anche una terza ipotesi si sta in laterale i trend sono tre ragazzi no non no è giusto prevedere il futuro anche se voi magari volete che io vi dica che cosa fa domani la crypto x non è così che ragiona un analista l'analista segue il trend segue il mercato quello che è in questo momento un ragionamento di probabilità aleatorie tra le altre cose non probabilità matematiche e quello che vi posso dire io è che la probabilità è a favore di una continuazione nei prossimi due mesi di questa fase discendente perché deve andare alla chiusura del ciclo annuale ma questa è una probabilità come il fatto che siamo nella settima settimana rossa e bitcoin non l'ha mai fatto va bene questa è una probabilità non è una certezza quindi io seguirò questa strada cioè seguirò la strada del del fatto che se rimbalza tanto bitcoin ragazzi e mi arriva dei buoni prezzi io tutte le mie cripto anche quelle in holding quelle rimaste perché altre diciamo sono già andate quando ero a miami cosa faccio le chiudo nel momento in cui i miei trading system mi danno segnale di chiusura così come ritornerò long nel momento in cui i miei trading system mi danno il segnale di long in questa fase se domani mi va long l'operazione io la seguo ragazzi la seguo perché perché se ho sbagliato questa previsione sto dentro il mercato e quindi però poi nella successiva se mi dà lo short non esco più con due 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 cosette esco con l'ottanta per cento del capitale perché perché logicamente io sto andando incontro alla chiusura del ciclo annuo questo è il modo giusto di ragionare cioè è pericoloso come era pericoloso detenere l'una qualche settimana da qualche settimana è pericoloso e io al pericolo non mi ci avvicino o meglio mi mantengo un'opzione per proteggermi il più possibile quindi il concetto dell'analista è questo non è scommettere dove si sale dove si scende quelle trading ragazzi lo possiamo fare giornalmente se andate a vedere la mia live di otto ore fatta a dicembre dove ho fatto il contest vi ho fatto vedere dal vivo come si fa trading in un giorno vincendo il contest eccetera dal vivo non è registrato ovviamente e tutti hanno gareggiato abbiamo gareggiato quello è trading però è il trading non posso farmi una previsione da qui a due mesi posso farvela però da qui a domani magari con una certa dose di diciamo accuratezza ok questo sì però i cicli annuali in teoria se seguono l'andamento naturale del di quelli che abbiamo visto negli anni passati chiudono quest'estate anche Naltac chiude quest'estate quindi questo significa che questi minimi verranno aggiornati o un doppio minimo se saliamo tanto magari in una ripresa nel trimestrale che dovrebbe avviarsi sempre se il trimestrale non si è già avviata del ribassista quello è un disastro ve lo dico già proprio chiaro e nel momento in cui io vado a sapere una informazione del genere mi sto attento è ovvio che ragazzi non faccio operazioni longos pregiudicate in questo momento è ovvio che non sono andato a fare i buy the dip perché non siamo in fase questo è il concetto quindi non è o si sale o si scende va bene ma è ragionare qual è la soluzione più probabile la più probabile che andiamo in close annuale verso quest'estate se non avviene questo cosa faccio provo magari entrare long un poco senza rischiare tanto perché è rischiosissimo se poi mi inverte io esco definitivamente perché dico vabbè allora quella è la mia visione però mi preparo sempre l'opzione ragazzi così si diventa antifragili sui mercati cioè mi preparo quella che è una strategia alternativa e a quel punto io seguo sempre una via e questo ci sta per esempio ragazzi adesso ve lo dico lunga su questa cosa noi seguiamo una strategia in academy mensile siamo long con pezzettino su bitcoin perché quella strategia è entrata long e io la seguo ha delle logiche va bene ragazzi è fatta per stare dentro queste cose poi è ovvio un pezzettino perché perché anche se quella strategia è entrata long non mi vado a mettere contro un trend che sta ammazzando tutte le persone questo è il discorso c'è un pezzettino questo ve lo fate con il money management che poi è la cosa ovviamente più importante quindi avere sempre una visione che siamo in un mondo aleatorio quello che stiamo vedendo non è il futuro è un possibile futuro quindi è quello che io seguo ma quello che io seguo in quest'anno per esempio da gennaio l'abbiamo prese tutte ma non è sempre così va bene non è sempre così perché poi a un certo punto verrà che sbagliamo perché è la natura aleatoria delle cose a quel punto che facciamo abbiamo le ancore di salvataggio quindi così ragiona un trader un investitore non si butta lì a capofitto poi lo so che vi dico queste cose sono complicate ragazzi non è che non lo so che non sono complicate però ve le dico perché così ragionate è un modo bello di scambiare conoscenza altrimenti io vi dico le solite bagianate da youtuber e poi io faccio più però non imparate niente a casa vabbè però facevo meglio di bagianate perché io lavoravo di meno e facevo più più va bene quindi si fa così vabbè allora detto questo ragazzi questo se non è l'una vi mostro gli ultimi supporti così la vediamo anche insieme sono sono qui ve li ho indicati teneteli a mente in teoria in teoria sempre l'una è in questa fase a meno di situazioni strane dovrebbe che ho fatto qui ho sbagliato dovrebbe seguire questa strada qui e andare a chiudere una struttura ciclica fatta in questo modo questa è la struttura ciclica non i target dei prezzi va bene quindi una fase di recupero e poi down ma non sappiamo se questa fase di recupero può essere anche solo questa candela perché è talmente profondo il il trend quindi voi qualcuno di voi in questo momento quando ho detto ci dovrebbe essere una fase di recupero ho già pensato adesso vado long così prendo la fase di recupero no perché sei contro trend principale quindi questo è il problema non si può fare anzi quella fase di recupero a cosa serve la dovrei chiedere qualcuno di voi dell'academy è dentro qualcuno di voi che ha fatto i miei corsi cosa serve una fase di recupero così ad impostarvi uno short di copertura al massimo serve a quello va bene ed è importantissimo andarlo a comprendere poi anche lì lo short di copertura poi mi va contro chiudo i stop ragazzi se riprende una trend av e fa così chiudete i stop è un trade cioè non è che moriamo tutti va bene allora questo è il discorso poi altri livelli ciclici importanti questo il minimo del semestrale ternario è stato breccato è stato breccato anche questo l'altro ciclo anche questa struttura ternale dei cicli di luna io la approverei al cento per cento perché proprio nella giornata di di oggi è andata a impattare su questo livello decretandolo come supporto rilevante questo significa che questo è un minimo ciclico e da qui abbiamo tre cicli strutturati per luna che sono fatti in questo modo qui ora il problema è questo minimo regge ci dà il tempo di un recupero e poi luna fa un flash crash si avvicina qua chiude il ciclo e ci siamo perché poi a me interessa questa fase ragazzi per entrare lungo mi interessa dopo la che c'è nell'annuale sulle criptovalute oppure fa una cosa del genere poi brecca qui e se ne va a finire a 11 dollari allora questo è il discorso che dovremmo andare a vedere visto che ha avuto questo crash improvviso di oltre il cinquantadue per cento in una sola giornata tutto è possibile perché perché è talmente rischioso questo progetto che potrebbe tranquillamente continuare a fare una cosa del genere se viene attaccato e vi dirò di più ragazzi più viene attaccato e più secondo me rischia perché non avrà poi le forze quindi deve intervenire qualcuno deve intervenire il binance e la situazione come sembra essere intervenuto però ragazzi anche su questo a me fa riflettere molto la questione parliamo di decentralizzazione e poi vogliamo l'aiuto del del tizio del caio non lo so non mi piacciono queste cose vediamo come funziona vediamo se resistono se resistono grandi applausi anche perché hanno una super cap vediamo come fanno vediamo è una sfida no 300 un po il 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 film vediamo come fanno e e poi niente ne ne parleremo allora vi mostro solo eh il eh super importantissimo livello di supporto di bitcoin eh ne parleremo anche eh prossimamente di questo livello di supporto tenetelo a mente perché è il più importante di tutti ed è questo qui ragazzi allora intanto questa è un grafico mensile mensile ragazzi mensile eravamo qui in mezzo quando vi ho preso questo grafico vi ho detto che eravamo nella terra di nessuno tra le due medie mobili ma se queste medie sono bleccate a ribasso entriamo in bear market perché è vero che il bear market avviene solo se buca questo livello 28.003 però queste medie ci dicono già un qualcosa quindi guardate gli altri bear come si sono sviluppati per eh eh bitcoin e ve la dice lunga la questione quindi intanto questa bullrun è stata molto breve rispetto alle precedenti quindi ho una struttura differente rispetto alle precedenti fatta a a tre onde tipo una cosa del genere oppure eh niente va vista poi con calma ragazzi probabilmente si sta sottigliando la capacità esplosiva della cripto insomma un po' di questo insomma ne potremmo parlare tante tante volte però il punto limite è questa zona qui sotto quel livello noi andiamo in flash crash e ci andiamo anche con bitcoin ve lo faccio vedere perché anche qui è successa la stessa cosa eh qualcuno mi pare in academy o su un commento se non ricordo mi ha indicato qui è quello che è successo almeno trentasette per cento in un solo mese con un flash crash improvviso perché è venuto meno il supportone quindi questo avverrà alla fine di un mese il mercato aspetterà la chiusura giornaliera per agire no avverrà nell'arco di pochissime ore se dovesse avvenire a un certo punto avviene come luna succede che viene toccato quel livello il mercato non ce la fa qualcuno si impaurisce iniziano a scoppiare le macchinette i bot iniziano a chiudere le posizioni e mandano in short tutti gli investitori si impauriscono e cominciano a vendere in selling arrivano le balene che devono prendere profitto perché non sono sempre le balene che comprano perché ci sono anche quelle che fanno trading ragazzi e fanno anche questi giochini arrivano e mandano down tutto quanto gli va in stop si proteggono una parte quindi va down e avviene tutto insieme perché avvengono i flash crash avviene così ragazzi a un certo punto mercato arriva qui non sa non regge prova a rimbalzare non ce la fa brecca questo livello appena il mercato vede che brecca questo livello si impaurisce fa break recupera non ce la fa e poi avviene il candelone come avete visto con luna vabbè adesso io l'ho disegnato così giusto per farvi vedere disegnare un parolone con questi scarabocchi però il concetto è quello che vi volevo spiegare quindi questa area 28 30 per bitcoin è il punto di non ritorno sotto questa dove andiamo a parare sotto quella dove andiamo a parare probabilmente arriveremo in questa zona qui in prima analisi 19 mila dollari in flash crash probabile che il mercato possa raggiungere velocemente i 20 mila dollari è bruttissimo ma fare un meno 40 anche nell'arco di un paio di 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 un giorno ecco una cosa del genere potrebbe succedere una cosa del genere sì ancora sì io spero di no e se dovessi dire qualcuno che aiuta qualcuno spero che aiuti in bitcoin ovviamente se dovesse succedere una cosa del genere al momento ancora siamo lontani sta reggendo supporto 28 30 sta reggendo dobbiamo recuperare questa è la veri la vera questione quindi questo trimestrale nuovo è lungo già questo pericoloso dobbiamo recuperare si vedrà nel breve questa cosa qui quindi la vedremo nell'arco dei prossimi 3 4 giorni 10 maggio se l'email go away se la vediamo messa male la cosa se nasdaq continua andare giù ragazzi bisogna proteggersi va bene da queste fasi bisogna proteggerti proteggersi perché i segnali ci sono ci sono da mesi e va bene tutta la questione delle cripto i fondamentali sono forti nelle cripto però poi se mi ritorna a 8 mila dollari bitcoin ragazzi eravamo a 69 poi ci stiamo tre anni e diciamo vabbè è però se mi torna a 8 mila dollari bitcoin l'una ritorna a 50 centesimi giusto per per capire una cosa del genere vabbè l'ho detto per dire e sarebbe una catastrofe insomma questi sono comunque insomma i livelli eccetera ragazzi poi tutto è la ripresa insomma potrebbe essere importante vedere però io al momento non voglio stare su un trend del genere quindi proteggetevi il più possibile allora mi è piaciuta questa live su twitch la prima volta adesso leggiamo i vostri commenti oggi è una live estremamente concettuale da alcuni di voi mi hanno detto che comunque e riuscite a comprendermi e quindi sono stracontento di questa cosa e andiamo a vedere qualche domandina sparatemi le domande quelle intelligenti non mi dite conviene ora e non mi dite soprattutto guarda tizio cripto tizio caio e altro perché non le guardo vabbè scherzo vabbè allora grazie sir felix noi ci rivediamo in academy e forse non la colo la devo vedere scilla me la in academy così compre l'estiluna in questo momento no non la compro perché semplicemente non voglio farci trading su questa criptovaluta perché ragazzi a dirvi la verità ho fatto altri acquisti in trading non ve lo dico perché poi le andate a copiare non sapete come le gestisco e perché voglio fare un'operazione di edge e di spread nuova in academy la condividerò in settimana con una cripto e quindi ho fatto degli acquisti ma non è luna perché luna non c'è questa possibilità e non compro contro trend per questo motivo non sono andato a prenderla però ho lo spread aperto su luna come vedi seguirò quella strategia di spread al massimo faccio una strategia che si chiama lascio la doppia cioè chiudo solana e vado doppio short luna solana quindi poi faccio un'altra cosa strategia che si chiama lascio la doppia proprio sullo spread che spiegherò diciamo nel modulo premium sullo spread trading è interessante ma iper speculativa proprio vi mette la testa ciao ciao insomma ok quindi solo per trader che vogliono rovinarsi le giornate con le fidanzate che poi non gli rivolgono la parola perché stanno tutto il tempo a guardare il grafico va bene allora ciao tor bene live grazie può essere che btc arriviamo a 25 rimbalziamo con feedback sì trader of btc sì assolutamente sì però un break di quella roba là se avviene se state luglio va bene perché chiudiamo l'annuale va bene siamo andati molto in basso però chiudiamo l'annuale se avviene prima della crescita dell'annuale no perché capito poi non dura e lì ci interviene la ciclica e quello il problema twitch fantastico potevo fare altre cento cose sul telefono mentre ti seguivo ok bello allora magari lo lo continuiamo cosa pensi di ada dagli e mauro agosto ti aspettiamo in sardegna cavolo rivengo in sardegna però magari fino agosto perché devo fare mille cose sono anche fuori poi quando rientro in tale magari come no sardegna è il mare più bello del mondo anche per me che sono del sud ne ho visti tutti però sardegna è il top allora se è vero che luna è anticipatoio la questione annuale btc potrebbe rendere il successivo annuale di luna ribassista secondo me ti dico francamente quello che penso tanto super domanda da top proprio ciclista allora io credo che luna si sincronizzi a bitcoin e a ethereum perciò probabilmente arriva prima e si ferma io la vedo così però è la prima volta quindi questa è una mia idea se la chiusura dell'annuale di bitcoin manda in rosso l'eventuale ripresa di un annuale di luna finisce malissimo finisce malissimo perché poi un annuale rosso come ha da ragazzi scende da quando è iniziato l'annuale no scende sempre e quello è il discorso ora luna ha beccato tanto è meno o meno 50 insomma ha beccato tanto però bisogna bisogna capire un po che ne pensi di dot momentaneamente personalmente io la vedo in un momento abbastanza buono per una buy di medio termine dot non la guardo da un po perché l'ultima volta che l'avevo vista aveva comunque un atteggiamento ribassista la guardo ma se non erro ha comunque un ciclo annuale che dovrebbe essere tirato al ribasso e te la faccio vedere proprio qui se non sbaglio ed è proprio così eccola qua allora dot ha un ciclo annuale che teoricamente in doppio minimo però vedi come il ciclo annuale di dot anche qui fatto a luglio sta andando verso la sua naturale conclusione ora qui probabilmente è avvenuto un minimo questo ciclo che dovrebbe durare altri più o meno fino a settembre anche qui però è ribassista quindi nel momento in cui questa o chiude una struttura ciclica a tre quindi fa una cosa del genere per dirti e allora sfasa tutti i cicli come li abbiamo disegnato oppure questa fa come luna cioè così scende fino alla fine del ciclo annuale quindi ragazzi è sempre bitcoin che ci indicherà la strada in questo caso e se andiamo verso un una cosa oppure un'altra peggy st viene recuperato secondo me sì il problema è se la riattaccano allora questo video su youtube si introdurrà nuovo attacco all'una potrebbe essere definitivo ragazzi se ha messa sul cavolo un progetto sono una badena quando è in difficoltà che faccio lo faccio in plot allora il concetto è un gioco di parti tra i team in questo momento di sostegno va bene se hanno deciso di farla scoppiare e il peg di westino lo recupera e continuerà questa lento tecnico fino a quando non crasha definitivamente il problema è che poi si vendono in luna per compensare questa cosa quindi oggi alcuni dell'academy hanno comprato usd e l'hanno rivenduta in trading più alta è una passo gratis no sembra un passo gratis perché dico compro una cosa che deve stare a uno la compro 90 0 90 e beh figo no problema che non è così perché c'è la variabile rischio assolutamente inizita nel fatto che viene viene aggredita poi insomma si finisce male quindi secondo me lo recupera ma il problema è per quanto tempo ma più o meno ce l'ho già andato vicino nella giornata di oggi ok luna foundation guard sposta 42 mila bitcoin per difendere il peg della sua steppola esatto sì sì è un gioco di parti il problema è che pensate se non resiste così ragazzi se non resiste adesso non so se il numero è giusto dei bitcoin però se non resiste così tutto questo meccanismo dei della defi crasha totalmente perché non ha cioè se non resiste con quello che ha l'una dietro non resiste una stable coin algoritmica in quel modo là allora come la facciamo questa stable coin algoritmica e non è bello perché c'è tanto poi da rivedere no tanti sui progetti sui protocolli tanto da rivedere tanto da riflettere ciao mauro ma il vero motivo della dipendenza di btc con nasdaq stessi protagonisti stessi fondi speculativi grazie il vero motivo sta nel fatto che il mercato e gli investitori considerano bitcoin una tecnologia e non una store of value questo l'ho detto mille volte solo value e bitcoin e noi sappiamo che è una store of value va bene perché abbiamo letto bitcoin standard perché abbiamo l'idea e ci crediamo ma noi altri è questo il problema allora se il mercato considera bitcoin uno store of value lo vedremo a breve e quindi si decorrela da nasdaq non diventa più una tecnologia in questo momento bitcoin è visto come una tecnologia tanto è vero che ha anche sofferto tanto negli ultimi anni la attacco delle criptovalute perché le cripto sono una tecnologia più semplice da comprendere come utilità perché io metto lì la le fai faccio soldi dal nulla metto lì bababla salvano questi rendimenti inventati e beh più facile no fa più presa poi in effetti poi c'è quello con le terre poi c'è quello che con le navicelle poi c'è la storia del play to earn è più semplice da comprendere da di una bitcoin di una currency store of value sempre la stessa immobile da anni si bene sale l'attrattiva marketing di bitcoin qual è ragazzi l'attrattiva marketing è che sale e questo è il discorso non è la stessa dell'attrattiva marketing di un nft di un game di un play to earn del metaverso della le fai con tutti i meccanismi di creare soldi dal nulla e non è la stessa cosa per il bitcoin non ce l'ha questa roba e quindi negli ultimi anni l'abbiamo subita perché si è visto tantissimo che la gente ha iniziato a abbandonare il concetto di bitcoin di base per avvicinarsi a questi paradisi per illusi si diceva una volta nei miei gruppi preferiti negrita hanno scritto un disco così no paradisi per illusi va bene andiamo avanti ragazzi ultimi tre minuti tre minuti avrei voluto un professore che spiegasse come te grande mauro ciao grande oggi sono stato una scuola superiore che ero qui sono in italia dopo la conferenza e sono stato una scuola superiore perché dei ragazzi volevano parlare di bitcoin è stato spettacolare fermo restando che ho visto che la sindrome della disattenzione è diventata a livelli di minuti ragazzi fantastico però il loro numero uno i ragazzi giovani sono proprio il top ragazzi io ho provato a spiegarvi ma non so cosa non capire va bene potrei porti una semplice domanda in privato appena puoi scrivimi una mail credo che nessuno l'abbia mai posta ma è molto importante credimi mandami una mail su focchiocciolatradingon.it carico sì certo che la carico su youtube i pack meglio fermarli i pack io non l'ho mai attivati non si attivano i pack diciamo in un periodo come quello di prima aspetto poi magari già ecco da adesso magari verso giugno un pezzerino attivare i pack si potrebbe anche fare va bene ho acquistato i tuoi corsi con l'obiettivo di fare training nella mia professione però è conto in breve secondo la tua visione non mi piace l'idea del trading come professione io te lo dico lo faccio da una vita non mi piace secondo me non dovete pensarla così ma in academy se mi scrivi ne parliamo io il trading lo vedo anche di più come un concetto di rendita di creazione di rendita poi può diventare una professione perché semplicemente tu non hai bisogno di lavorare quello è un discorso diverso secondo me non si sposa bene il concetto di professione con la psicologia giusta per fare training tutto qui però è un discorso complesso scrivimi in academy ciao mauro grande lavi come sempre cosa ne pensi delle manovre di sui piani earn e di cashback e che questa volta hanno sbagliato proprio tempo perché con le loro fesserie per non dire la verità gli utenti e prima dicono una cosa poi un'altra vabbè gli utenti ormai l'hanno capito infatti è fracasciato tutto lo stesso quindi non è cambiato niente perché un giochino funziona una volta non si prende in giro il toro per due volte è giusto quello che fanno dal punto di vista aziendale perché loro ovviamente si vanno a ad aumentare i propri introiti è meno giusto quello che fanno nei confronti dei clienti però ragazzi il concetto è come dire apple ha tolto i caricatori da 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 cose giusto cioè quelle sono azienda fanno i loro interessi ragazzi eh se voi pensate che queste aziende che i protocolli siano benefattori eh della vostra tasca vi assicuro che non è così eh o almeno teoricamente non è così poi magari può diventare così per qualche motivo ma in teoria non è così quindi eh che ne penso che il cashback l'hanno reso eh hanno hanno abbassato il cashback a un altro livello già comunque il cashback con la carta ce l'aveva i costi impliciti di cambio da bitcoin a euro quando pagavate quindi comunque diventa praticamente un po' di episodio però il sistema di pagamento è valido l'applicazione è valida tutto quello che offre è valido l'assistenza è valida restano tutti i pro di crypto.com e e e ha ridotto i benefit per gli utenti ragazzi e questo poi è business no si chiama così eh ovviamente ci sono alternative c'è nexo che eh in questo caso diventa una buona alternativa e poi binance come sempre e e wirex ragazzi wirex di nuovo che però wirex un po' tutta macchinosa ampolle ampolle una eh grande ampolle una grande ampolle da un po' di tempo perché eh ha arrivata probabilmente è arrivata a un prezzo così basso la algoritmica ampelfort è arrivato a un prezzo così basso di eh market cap che non riesce più a scendere quindi se io la vedo così non riesce più a scendere perché è talmente sottocapitalizzata o può essere un'alternativa è un'algoritmica anche lei un grande esperimento della DeFi 2.0 non ha dato frutti perché ha una capitalizzazione di novanta eh 95 milioni di dollari ce la fa recupera io sono sempre fan di Apple non lo sapete quindi eh Daniele tu lo sai insomma meglio di tutti quindi io sono sempre fan però eh ovviamente eh c'è 95 milioni l'una miliardi e miliardi che insomma però sai uno un occhio di riguardo alla eh a quella cripto lo diamo magari come come sai in Academy io ho già detto la mia qualche giorno fa va bene Luke come ti stai muovendo con i tuoi che che considerando i nuovi termini li ho messi in staking per centottanta milioni di giorni per avere il top di rendimento è proprio su questi cake che io sto creando una strategia che dirò in Academy agli ragazzi tra poco perché eh eh li andiamo a coprire con delle strategie di eh copertura vediamo che cosa ne esce fuori è un'ipotesi è una strategia non la voglio dire nel canale ragazzi perché è troppo tecnica eh però più o meno l'ho detto insomma cerchiamo di metterle a rendita e a rendita poi li copriamo con del delle altre strategie che succede succede che se hanno sbagliato i calcoli loro andiamo a fare un passo gratis per un anno eh io un passo gratis me lo prendo perché è gratis quindi vediamo se funziona eh questa cosa e poi eh il caso magari poi la porto sul canale fra qualche mese ma link Mauro è crescita pure lei come luna eh è cresciata cresciata pure lei come lì link e link era già da un po' che andava veramente male poi io eh parlando d'altro giorno anche con eh aveva un ciclo eh ribassista già da un po' quindi assolutamente da non utilizzare e guardatela lì ragazzi non c'è storia questo è l'annuale ribassista di link ha breccato qui eh a febbraio il minimo dell'annuale quindi ha fatto la sua metà con il ciclo vedete la struttura della metà ciclo è questa poi lasciate stare i prezzi i punti d'arrivo questi non li so ragazzi ma la struttura ciclica anche qui eh ragazzi tutti i cicli annuali negativi ci sono un botto di titoli che hanno i cicli annuali negativi adesso perché sono diventate e tutte ribassiste dopo questo crash quindi la problematica per questo che vi dico andiamo adesso a fare il buy the dip contro trend con un annuale ancora lontano dall'essere chiuso siete i miei eroi se fate questa cosa perché insomma vuol dire che siete degli eroi ciao se ho letto bene il nostro Mauro e ci saranno i martedì allora teoricamente sarebbe la mia idea di fare questa cosa vediamo se ci riesco e poi ne parliamo va bene ragazzi allora io vi devo lasciare adesso provo a vedere che cosa è uscito su Twitch e provo anche a capire se riesco a farla uscire nei nei programmi di Twitch non so se qualcuno di voi lo sa come si fa non so se dovrebbe uscire da solo non non ho idea e vediamo un po allora Bitcoin vediamo se recupera se recupera parte un nuovo ciclo mensile a meno poi vediamo se è trinestrale se lo fa ci dà spazio ci dà aria è fondamentale di questa cosa io c'è il nuovo ciclo mensile probabilmente partirà tra poco tra poco tempo questo sicuro il problema è quanto dura e se fa un rialzo accettabile questo è il problema di di fondo va bene ok vi ringrazio e noi ci rivediamo nel prossimo video oppure come si dice su su Twitch ragazzi facciamo una cosa nuova noi ci rivediamo nella prossima live non so mi ubriaco stasera e se mi viene in mente qualcosa sarà il nostro nuovo saluto da Twitch ciao 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 Grazie a tutti.